Ben trovati con questo spazio di approfondimento Il Punto, uno spazio dedicato al turismo. Un turismo particolare perché è quello che ha promosso la provincia di Chieti con il progetto Tesori e Sapori dell'Abruzzo montano. Parliamo di nordic walking, di bike, running, mountain bike, ma anche di trekking, come testimonio all'eccezione della promozione del territorio provinciale di Chieti. Ospite nei nostri studi per parlarne c'è il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio. Ben trovato, presidente. Ben trovato. E allora parliamo di questo nuovo modo di concepire il turismo. Possiamo dire che la provincia di Chieti non può vivere di solo turismo della costa, quella costa dei Trabocchi che ormai tutti quanti conosciamo e che recentemente ha raggiunto dei traguardi importanti, come la recente acquisizione dell'ex tracciato ferroviario. Quindi dalla costa anche al territorio interno della provincia di Chieti. Sicuramente. Noi abbiamo sempre detto che la provincia di Chieti si compone di 104 tesori. Un bellissimo mosaico. Ogni pezzo di questo mosaico rappresenta una specificità, una qualità, una passione, perché no, dei suoi amministratori, degli imprenditori turistici, dei giovani, delle associazioni. Insomma, il turismo montano, collinare, dell'interno in generale e quello costiero sono due segmenti di una economia turistica che sta cercando di farsi spazio. Sta cercando di trovare nuovi mercati, nuovi clienti per fare in modo, obiettivamente, che il turismo possa concretamente rappresentare la seconda gamba della nostra economia. La prima, indubbiamente, è quella industriale, manifatturiera, che purtroppo negli ultimi anni ha registrato una crisi profonda, ma dalla quale si sta cercando di uscire. Ci auguriamo che, tutto sommato, anche l'investimento della Sevel possa essere un buon segnale di speranza. Poi c'è l'economia turistica, che non è stata, diciamo, espressa in maniera compiuta e che oggi cerca, appunto, di affermarsi anche con il sostegno di iniziative come Tesori e Sapori dell'Abruzzo Montano. Noi puntiamo sul turismo, perché abbiamo sempre detto che il turismo rappresenta una parte importante del nostro futuro. E dal turismo può essere, diciamo, colto un aspetto importante, che è la meritocrazia. Cioè i giovani che vogliono investire, devono mettere in campo il loro talento, la loro passione, la loro intraprendenza, ma soprattutto i loro sacrifici. E in questo settore, chiaramente, noi abbiamo una incredibile platea di giovani, giovani che vogliono dare lavoro ad altri giovani. L'esempio della Catalogna, no, giovani, giovanissimi che hanno aperto delle industrie, un momento facilissimo per quella regione della Spagna, sfruttando il flusso turistico che registrava la Catalogna in quel periodo e sono state create molte imprese. Ecco, noi vorremmo esportare questo modello di realizzazione di imprese anche sul nostro territorio. Lo dobbiamo fare perché abbiamo bisogno di posti di lavoro. Naturalmente questo progetto, sostenuto anche dalla regione Abruzzo con i fondi PORFERS, ha rappresentato nel 2013 un'occasione importante per creare la, come si dice, spettacolarizzazione di tutti gli eventi e di tutte le potenzialità che ci sono all'Abruzzo interno. Intanto voglio ringraziare i sindaci, le proloco, le associazioni di categoria, i patti territoriali, i giovani, ma soprattutto le imprese locali che credono nel turismo, che investono con i loro sacrifici, con i loro risparmi, perché la provincia di Chieti d'Abruzzo abbiano un futuro. A loro dobbiamo guardare con particolare attenzione, perché queste imprese turistiche, veramente negli anni più difficili, cioè negli ultimi cinque anni, cercano di resistere e cercano di prepararsi probabilmente alla ripresa. Poi noi vogliamo un turismo che si diffonda a macchia d'olio su tutte e 104 comuni, perché abbiamo detto, lo ripeto, l'Abruzzo interno, l'Abruzzo montano, la mia provincia in particolare, hanno dei borghi, delle suggestioni, l'enogastronomia, i prodotti agroalimentari, l'artigianato, l'agricoltura, che fanno la differenza. In fondo, come dire, il turismo slow, il turismo lento. E noi possiamo contare anche su clienti potenziali. Noi alle nostre spalle abbiamo Roma con il Lazio, la Campania con Napoli, che possono rappresentare per, come dire, le gite fuori porta, le gite di fine settimana, un bacino incredibile da cui attingere, ovviamente, clientela per le nostre località. Io sono convinto che da qui a qualche anno il turismo, anche e soprattutto quello montano, legato al, diciamo, movimento slow, potrà dare delle grandi soddisfazioni. Del resto, anche, lei ricordava, la via verde della Costa dei Trabocchi, il percorso ciclopedonale, questa via verde rappresenta indubbiamente un po' l'icona del turismo lento, del turismo slow. Ecco, la via verde come vetrina di tutto, diciamo, di tutta la provincia e di tutti questi 104 comuni. Io sono convinto veramente, perché poi abbiamo visto che in questo progetto sono venute fuori, diciamo, delle bellissime novità, sono venute fuori delle bellissime iniziative. Ecco, ricordiamo, tra i paesi che hanno partecipato, ci sono Furci, Pretoro, Celenza, Sultrigno, e poi c'è stato un evento cosiddetto di start-up, che è quello che ha visto coinvolti dei bikers, dei camminatori, ma anche dei cavalieri che sono partiti da Ortona per andare a Roma. Un cammino a piedi, a cavallo o in bicicletta per andare dalla cattedrale di San Tommaso Apostolo, appunto, di Ortona, fino a Piazza San Pietro, all'Angelus del Papa. Beh, a parte, diciamo, la bellezza che ha rappresentato questa esperienza del cammino di San Tommaso, ma il turismo religioso più in generale fa parte di questo progetto, perché Lanciano, Ortona, Casalbordino, altre località importanti dell'Abruzzo, possono dare, appunto, a questo progetto di turismo slow un valore aggiunto importante. Io penso sinceramente che si possa fare in modo che tutti i segmenti del turismo rappresentino concretamente un unicum, un progetto unitario che dovrà dare soddisfazione. Questo, naturalmente, io mi accontento. Io sono figlio di commercianti e quindi un po', diciamo, c'è una semplificazione, una cultura spicciola. Se il tuo locale si riempie di gente, vuol dire che la tua attività è apprezzata, che vendi bene, sai vendere, i prezzi sono concorrenziali. Ecco, io voglio immaginare che, appunto, le nostre zone, soprattutto quelle interne, si riempiono di gente. Poi, siccome, naturalmente, è un turismo, come dire, qualificato, di nicchia, perché il turismo slow, insomma, richiama una parte importante, diciamo, della domanda turistica, io sono convinto che può rappresentare un moltiplicatore, un incubatore, come si dice, di imprese. Parliamoci chiaramente. Se noi non siamo in grado, in questi mesi, che spero possano coincidere con una lenta ripresa dell'economia del nostro Paese, a dare impulso all'economia turistica, perdiamo una scommessa importante e difficilmente poi potremmo recuperare il tempo, che evidentemente, se non riusciamo a sfruttarlo bene, lo perdiamo in questo percorso di ripresa. Ecco, lei poco fa faceva riferimento al finanziamento del PORFESR per quanto riguarda questo progetto Tesori e Sapori dell'Abruzzo Montano. C'è dunque sempre più bisogno di ricorrere ai fondi europei per fare turismo, ma non solo, per diverse attività dell'ente provinciale? Beh, intanto bisogna fare in modo che le risorse europee siano finalizzate a promuovere, soprattutto, oltre alla conoscenza, all'integrazione, all'opportunità che l'Europa offre, anche lo sviluppo vero dei nostri territori. Il PORFESR, in fondo, assolve a questa funzione molto importante di sostenere parti importanti della nostra economia. Per esempio, questo è un progetto che ha al centro il territorio montano e le tante esperienze positive già in atto nel campo appunto del turismo fuori porta e quello a cui abbiamo fatto riferimento, della mobilità lenta. Noi dobbiamo mettere a sistema, quindi in rete, un unico canale comunicativo che appunto faccia capire che venire in provincia di Chieti, che venire nelle zone montane della nostra provincia, significa star bene, significa godere di quello che il buon Dio ci ha offerto, ma godere anche della qualità della gente che opera su questi territori. Io voglio dire, e lo presenteremo come conclusione del nostro lavoro, i fondi PIT che sono stati concessi ai comuni montani, ai comuni dell'interno e alle imprese per l'innovazione nella zona interna della nostra provincia, i fondi PIT hanno impiegato diversi milioni, tante risorse, milioni di euro che praticamente sono serviti per migliorare la qualità dei borghi. Io ho partecipato all'inaugurazione di tante iniziative messe in piedi dai comuni, abbellimento dei borghi, realizzazione di attività, ultima per esempio all'Ama dei Peligni, a supporto della Grotta del Cavallone. Insomma, abbiamo visto che in mezzo ai nostri sindaci ci sono tante bellissime qualità e tanta fantasia che farà la differenza per spettacolarizzare il prodotto turistico di ciascuna località. Ecco, insomma, voglio dire, la via verde della costa dei Trabocchi, turismo legato ai sapori e ai tesori dell'Abruzzo Montano, l'iniziativa delle associazioni di categoria di coagulare al meglio tutte le forze imprenditoriali che ci sono nella nostra provincia rappresentano una buona carta di identità per entrare nel firmamento del turismo mondiale. Noi dobbiamo essere presenti nelle occasioni più importanti per la vendita del nostro prodotto turistico, soprattutto in quelle zone che ci possono offrire potenziali clienti. Guai, guai a sperperare soldi, che non ce ne sono più, per iniziative estemporanee, anche per promozione che non rende un bel niente. In fondo, l'Abruzzo ha bisogno di visibilità, l'Abruzzo ha bisogno di essere una buona vetrina e una esposizione in questa vetrina di tutte le cose belle che abbiamo. Veramente, io devo dire, ma ovviamente sono di parte, Devo dire che se ci affacciamo e vediamo questa vetrina, ci rendiamo conto che c'è tutto quello che può interessare il turismo, non solo italiano, ma europeo e mondiale. Cerchiamo veramente di perseverare su questa strada. Siamo in conclusione di questo spazio di approfondimento dedicato dunque al turismo lento nella provincia di Chieti, alla mobilità lenta. In particolare, Presidente, queste iniziative secondo lei serviranno anche per combattere lo spopolamento delle aree interne che soffre appunto il nostro territorio? Decisamente, l'obiettivo principale è mantenere la popolazione nelle zone interne, ma soprattutto creare le condizioni per i nostri giovani. Io torno a ribadire, noi abbiamo dei giovani stupendi. In questi cinque anni ho avuto la fortuna di girare nelle nostre scuole, di incontrare tante associazioni di giovani, di andare nelle nostre università. Mi creda, veramente. Io sono veramente fiducioso per il futuro di questo paese e di questa provincia. Dobbiamo dare gli strumenti operativi ai nostri giovani per mostrare fino in fondo quello che sono stati capaci di realizzare attraverso gli studi e i sacrifici. Ecco, questi finanziamenti, lei faceva riferimento a quelli europei, servono soprattutto per dare al giovane che vuole aprire un'impresa quel sostegno economico per avviare l'impresa stessa e per renderla anche competitiva. L'esperienza nel turismo di giovani che creano lavoro per altri giovani è l'esperienza più straordinaria e più feconda che ci possa essere. Quindi, zone interne da valorizzare, mantenere naturalmente i giovani legati al loro territorio, ma soprattutto la prospettiva anche di crescita democrafica. Ma perché no? Se aumentano le occasioni di lavoro, se aumentano le imprese legate all'ambiente e al turismo, io credo che ci saranno opportunità anche perché questi paesi in qualche modo registrino un aumento della popolazione, un aumento democrafico. Tenga presente in un ambiente che dobbiamo assolutamente preservare. In questi anni siamo stati un po' le sentinelle su tante iniziative che si volevano fare, incompatibili con lo sviluppo del nostro territorio e con il turismo che vogliamo concretamente realizzare come industria, iniziative sia offshore, sia al mare, che vicino ai laghi o in altre zone della nostra provincia, abbiamo detto no, ma non perché eravamo pregiudizialmente contro, solamente perché chiaramente chi vuole fare turismo assolutamente non può immaginare una compatibilità con investimenti di questo genere con l'economia turistica. E allora siamo giunti al termine di questo spazio. Grazie Presidente per essere stato nostro ospite e grazie a voi telespettatori per averci seguito fin qui. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori per averci seguito fin qui.